Gianni Bugno e Claudio Chiappucci hanno fatto tappa a vasto per il terzo appuntamento di Road to La Grande Partenza, evento organizzato da CNA Turismo e GAL Costa dei Trabocchi in collaborazione con la Camera di Commercio di Chieti e Pescara in vista del Giro d'Italia 2023 che partirà dall'Abruzzo. L'incontro è stata l'occasione per presentare il libro di uno dei ciclisti più amati di sempre dal titolo Per non cadere la mia vita in equilibrio. Un libro dedicato a quella che è stata la mia vita, visto che non l'ho mai raccontata, l'ho raccontato con un libro. Ho accolto l'occasione della partenza del Giro d'Italia per venire qua a presentare il libro e poi per essere qua per promuovere il territorio visto che il Giro d'Italia partirà dalla regione Abruzzo. La partenza del Giro d'Italia da qua comunque è un evento che farà parlare molto anche a livello di immagine, pubblicità. Ma bisogna prendere atto che ci sono davanti dei giorni in cui se ne parlerà tanto di qua e quindi è un bellissimo evento. Io credo che essere partecipi insieme a Gianni dove noi siamo stati rivali per anni sulla strada del Giro d'Italia. Credo che sia un bel fiore all'occhiello anche per l'Abruzzo. Chiapucci si è espresso anche sul dualismo con il suo amico Gianni e su come si è cambiato il ciclismo. È da tanti anni che ormai manca il dualismo. I dualismi si sono persi anche perché il ciclismo è cambiato. La tecnologia ha portato a correre in maniera diversa, affrontare il ciclismo completamente all'opposto di quello che eravamo noi, in mezzo pubblico, a contatto con la gente e comunque a far parlare dal primo all'ultimo giorno del ciclismo e questa è la realtà. E il Diablo sulla vittoria del Giro 2023 però non punta sugli italiani. Parlare oggi i favoriti sembra difficile perché i corridori non sai mai fino all'ultimo momento se ci sono, fanno pretattica. Io credo che sulla carta non abbiamo italiani purtroppo per poter puntare in alto. Abbiamo tanti cacciatori di tappe, c'è questo giovane belga che ne parlano tutti bene, forte. Io credo che si viene qua perché viene e vuole vincerlo. Sto parlando di Liverpool. Sto parlando di Liverpool.